L'Università degli Studi della Basilicata ha ospitato un importante incontro scientifico divulgativo sulla tutela della salute di genere, moderato dall'avvocato Carmen Santoro Libutti. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalle associazioni Iris, Fidas e Fidapa di Potenza per diffondere sempre più tra le giovani studentesse dell'Ateneo Lucano la cultura della prevenzione dei tumori al seno, alla cervice uterina e di altre patologie correlate alle infezioni da papilloma virus umano. Obiettivo comune delle tre associazioni è incrementare l'adesione delle giovanissime e i programmi di salute pubblica di prevenzione delle principali neoplasie femminili. Fidapa, Fidas e Iris vogliono laurearsi nella prevenzione. Per conseguire questa laurea è importante che la diffusione della cultura della prevenzione venga in maniera capillare anche nei confronti delle fasce più giovani che sono maggiormente interessate alla pratica vaccinale. Abbiamo deciso di vaccinare le 12enni, le 15enni, le 18enni, le 24enni e le 25enni cioè per 4 anni e poi solo due corti che sarebbero le 12enni e le 25enni. Alla fine di 7 anni con questo tipo di impegno noi dovremo vaccinare solo le 12enni. Questa strategia della regione Basilicata è unica in Europa e permette in soli 7 anni di arrivare alla copertura della popolazione femminile avendo dopo 7 anni una popolazione coperta fino a 32 anni. Il virus è dietro ogni tumore al colo dell'utero per cui si conosce anche la via di trasmissione, si conosce come si trasmette da una persona all'altra, si conosce come attecchisce all'organismo. Si sa anche che ad esempio è un virus molto 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 diffuso, non c'è persona che abbia attività sessuale che non abbia il virus. Il consiglio è quello di vaccinarsi, di vaccinarsi e poi di assumere un comportamento di vita decente. Grazie.